Ciao ragazzi, in questo video voglio farvi vedere uno spray che mi hanno inviato per coprire i capelli bianchi che è questo qui, The Root Fix, si chiama, della Young Air, quindi è una collaborazione questo video trovate il link per acquistarlo sotto nell'info box vi faccio vedere lo spray è questo qua, e c'è nero, che è quello che proverò, castano chiaro e castano scuro però non lo proverò su di me perché io non ho capelli bianchi ancora, per fortuna e lo proverò sul mio ragazzo Ciao, io sono la cavia Così sono i capelli bianchi? Ecco, lui è ben fornito di capelli bianchi, quindi io ho prima cavia Bisogna shakerarlo un po' c'era un cosigno giallo, pensavo che fosse una specie di sicurezza, ma non credo ecco, ecco infatti va bene già così è freddo meglio, se aveva fatto altri io l'ho fatto oh sì sì, li copre come li copre bene praticamente devo fare tutta la testa perché... ah, poi non vi ho detto che va via con l'acqua quindi se non siete soddisfatte del risultato, soddisfatti non vi preoccupate perché tanto dopo pochi lavaggi va via comunque è fantastico, cioè copre... non so se... guardate, copre benissimo fantastico potete anche vedere la chiazzetta... la chiazzetta calma del mio ragazzo se ti faccio pure quella, così sembra che c'è i capelli tipo brusconi mi raccomando tenete gli occhi ben chiusi quando lo usate chiaramente, cioè, non è un prodotto così naturale da poter tenere gli occhi aperti vedete, ho colorato un po' si è spattaciato ancora più vabbè, ragazzi, dopo... lo... dopo mi sistema lo lavato... sì, si lava anche col sapone ecco, sei diventato moro wow c'hai tutti i capelli neri beh, devo dire che funziona e come quindi approvato so, provi ok, prima metterò più i capelli ho fatto lo so sempre scritto uguale quanti anni? ho 40, non ho capito da gamba quando è stato che ti sono venuti i capelli bianchi? a vent'anni? ho avuto 12 a 12 anni ha cominciato a avere i capelli bianchi? i primi poverio ma ci sono si, quasi tutti va bene va bene, noi vi salutiamo ciao al prossimo video ciao ciao un avvertimento dovete stare molto attenti agli occhi sia quando lo mettete quindi, magari fatevi aiutare da qualcun altro mettete un asciugamano sul viso in modo che non vi vada negli occhi sia quando li lavate perché se il prodotto vi va negli occhi brucia da morire me l'ha detto il mio ragazzo ieri quando si è fatto la doccia che gli ha bruciato tantissimo c'è da dire che io glielo ho fatto su tutta la testa quindi se lo fate solo sulla ricrescita il problema è minore è più facile metterlo senza che vi vada negli occhi e anche quando vi lavate comunque il prodotto è di meno e dovreste avere meno problemi comunque state attenti questo è davvero tutto io vi saluto e al prossimo video ciao